Quando noi arriviamo a Lui, quando noi lo cerchiamo a Lui, ci ha cercato prima, Lui è sempre avanti di noi, ci aspetta, per riceverci nel Suo cuore, nel Suo amore. E queste due cose possono aiutarci a capire questo mistero dell'amore di Dio con noi, per esprimersi ha bisogno della nostra piccolezza, del nostro abbassarci. E anche ha bisogno del nostro stupore quando lo cerchiamo e lo troviamo lì aspettandoci.